Italia e Belgio hanno disputato una partita che ha incantato gli amanti del bel calcio. L'Italia ha dominato il primo tempo, ma l'espulsione di Pellegrini ha compromesso la squadra, che ha poi ceduto il pareggio ai Belgi. Dodi Luquebacchio ha giocato solo 20 minuti contro l'Italia, ma l'attenzione a Torino è su di lui. Alla Juventus si sta pensando a Dodi Luquebacchio per l'inverno. Luquebacchio è un attaccante molto flessibile, con rapidità, abilità nel dribbling e nel gioco aereo. Il belga può infatti giocare come attaccante, ala e centrocampista offensivo. Tuttavia il suo ruolo più naturale è quello di esterno destro. Luquebacchio ha avuto un enorme successo nel calcio tedesco e attualmente gioca nel Sevilla, dove milita da agosto 2023. Luquebacchio non è un sostituto diretto per Vlahovic o Milik, ed è chiaro, ciò che attrae la Juve è il suo prezzo, non molto alto, intorno ai 12 milioni di euro.